Ma lo sai che non l'avrei mai detto? E quando l'ha capito? Io? All'elementare, con l'insegnante di ginnastica Ma sai che paro paro anch'io eh? Mi ricordo che c'erano certi polpaggi Ti ricordavi che polpaggi? Io guardavo un po' più su Come se inchinavano a lacciarsi le scarpe da ginnastica Ormoni mi facevano la ola Eh vabbè degustibus L'atelier del taglio, il tempio del colosse Ma usano le due stesse parole Ragazzi, ringraziatemi Grazie tantissimo Mal notti Loro Diciamo che io e Vitaliano abbiamo qualcosa in comune Stasera ci esco Guardi parli con mio fratello perché oggi sono concentrato psicologicamente su stasera Eh perché? Beh perché ogni volta che gioca Cristiano Ronaldo Verendi la mezzagiornata precedente è nulla Ecco pensa solo a Ronaldo Capisco, allora vorrà dire che questa sera quando sarò a cena con Cristiano e la compagna Gli porterai i tuoi saluti No ma guardimi mi sono spiegato male Intendevo dire che mi dedicherò completamente a lei La farò essere divina per stasera Scusami Andy, scusi eh signoria Com'era quella cosa bella? Ma che buono che dici? Ma che tempi? Ci vado un po' La farò diventare la del migliore amica E dove andate a cena stasera? Guarda in realtà ancora non lo sappiamo perché con Cree si mangia sempre molto leggero Con Cree? Sì ma quella in primis è quella disgraziata che si è messa con Bradley Con chi? Bradley Cooper Eh non lo conosco Ciao 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 Ciao